Vivi nel ricordo, sia nel senso che i nostri cari, ma anche i nostri cari delle nostre memorie collettive, pubbliche, devono essere vivi nei nostri ricordi ed è importante vivere anche ricordandoli. Due conferenze in diretta streaming da Palazzo San Giacomo apriranno il tradizionale programma che accompagna la ricorrenza dei defunti. Quest'anno la memoria è dedicata in particolare a Giacomo Matteotti, deputato del regno tra i principali oppositori del fascismo, e a Domenico Cirillo nel giorno del suo martirio e nel 220esimo anno dalla Repubblica Napoletana del 1799. Dopo un maggio dei monumenti già dedicato a Gaetano Filangeri, le iniziative per il recupero del Fortino Vigliena e il premio di giornalismo dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel. Cento anni fa Matteotti fu eletto giovanissimo per la prima volta parlamentare della Repubblica. Conosciamo tutti il suo grande sacrificio, è una delle personalità più eccelse della storia nostra di italiani. E poi perché in questi ultimi tempi un nostro bravissimo storico, il professore Isaias Sales, che è docente di storia delle mafie, uno dei più grandi esperti di mafia e corruzioni, ha trovato nuovi elementi a proposito del suo delitto, del delitto Matteotti. In più abbiamo creato un ponte ideale tra questo sacrificio e quello di Domenico Cirillo, perché Domenico Cirillo, patriota della Repubblica Napoletana del 1799, proprio il 29 ottobre, insieme agli altri protagonisti di quella pagina fulgida della storia europea, fu trucidato e condannato a morte. Quindi concludiamo con Domenico Cirillo il 29, le celebrazioni dedicate ai 220 anni della Repubblica Napoletana del 1799 e con Matteotti apriamo i giorni di vivi nel ricordo.